Tornerò presto a quel cantiere. Quelli non sono ambientalisti. Chi tira un sasso a un poliziotto non è un ambientalista, è un criminale che deve finire in galera. A dirlo, citando le proteste sul cantiere della TAV in Val di Susa, è il segretario della Lega e ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini durante la festa della Lega Romagna a Cervia. Più dicono di no alle infrastrutture più io farò in modo di portarle a termine. La TAV sarà un'opera incredibile, afferma il vice premier. Le dichiarazioni di Salvini arrivano qualche ora dopo gli attacchi dei no TAV a San Didero, in Valle di Susa, con lancio di pietre e bombe carta verso i poliziotti che monitoravano un corteo di protesta. Se la prende però anche con gli ambientalisti che spesso bloccano le strade italiane. Ci tengo all'ambiente ma non lo si tutela bloccando le autostrade. Se uno ha un furgone vecchio è perché evidentemente non ha soldi per cambiarlo, andrebbe aiutato. Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Matteo Salvini durante la festa della Lega Romagna. E tu, cosa ne pensi? Iscriviti al canale.